I cadetti americani superano gli esami finali con una manovra di sbarco detta operazione Kemet. Protetti dal mare, aggrediti dal cielo, 1500 allievi debbono costituire una testa di sbarco. Senza dubbio è questa la più rumorosa scolaresca del mondo. Le chiatte vomitano carri armati. Ora tocca ai paracadutisti. Come affusolate nubi dallo scappamento si liberano gli sciami dei soldati. Devono attestarsi oltre le linee nemiche, laddove in Europa trovarono il fraterno saluto dei partigiani.